Le mie prossime tre letture, che erano difficilissime da tenere in mano per far vedere tutti i titoli senza che scivolassero. Cominciamo con l'ultimo Ronin, una storia delle tartarughe ninja ambientata in un futuro abbastanza prossimo, in cui soltanto una delle quattro tartarughe è ancora in vita, il clan del Piede è riuscito a dominare, ad avere il predominio, e questa tartaruga, non vi dirò chi, cerca per l'ultima volta di sconfiggere il nemico. Le strade di sabbia, di Paco Roca, che è stato definito da Vittorio Giardino una vertiginosa e inquietante parabola tra Kafka e Dostoevsky, Melville e Poe, un racconto che non lascia dormire. Ora, io di Paco Roca tendo a leggere tutto, è un autore che mi piace molto, questo mi manca, e leggere queste parole di Vittorio Giardino non ha fatto altro che aumentare la voglia di leggere. Forse ve ne parlerò meglio in un video dedicato, perché comunque l'avete visto, video di Paco Roca sul canale ce ne sono un sacco, e perché dalla descrizione, non ho voluto sfogliare tantissimo per non spoilerarmi, dalla descrizione non è molto chiaro quello che succede, ma sono chiare le atmosfere, quindi staremo a vedere. Ora, un fumetto che potrebbe risultare pesante da leggere per qualcuno, Aaron, la storia di un ragazzo di vent'anni che passa l'estate, come quasi tutti i ragazzi, tra amici, ragazze, a studiare, a prepararsi agli esami, ma a un certo punto, guardando fuori dalla finestra della stanza dove si trova a studiare, scopre, capisce, di essere particolarmente attratto dai ragazzini più piccoli che giocano di fronte. Ripeto, potrebbe essere una storia dura da leggere, probabilmente non è una storia per tutti, ma vi farò sapere anche in questo caso che cosa ne penso. Fatemi sapere cosa avete già letto, cosa avete intenzione di leggere, cosa magari non leggerete affatto, e ci vediamo alla prossima!